Bene, oggi con le nostre telecamere abbiamo raggiunto Roncaglia, Ponte San Nicolò, quindi siamo veramente alle porte di Padova. Siamo ospiti della Zorzi Impianti, elettrici e fotovoltaici e tanto altro ancora. La cosa bella è che questa è un'azienda che a breve compirà 100 anni, quindi un'azienda storica, un'eccellenza del nostro territorio. E accanto a me c'è appunto Susanna Zorzi, che non è una qualsiasi, ma pensate un po', oltre a essere la titolare, insomma, con il fratello, dico bene, è anche il presidente degli impiantisti di Confartigianato, Padova. Quindi una persona che sicuramente ci darà una mano per parlare di una tematica fondamentale e importante con una ricaduta che tocca tutti i vari comparti, i vari settori. E cioè la scarsità, la mancanza, l'irreperibilità delle materie prime. Quindi sappiamo bene che in Europa c'è un conflitto in atto, ma non solo. C'è anche purtroppo un lockdown imposto dalle autorità cinesi che sta causando insieme al conflitto la mancanza appunto di materie prime. Materie prime, come dicevo, che toccano tanti settori, quindi manca ad esempio, faccio qualche, si dice la lista della spesa, manca il nickel, manca lo zinco, i minerali ferrosi, manca addirittura il legno, la carta, dicevamo appunto il ferro. Pensate per realizzare i ponteggi, c'è stato il famoso bonus facciate, quindi che ha rilanciato il comparto dell'edilizia, il bonus 110 e adesso siamo in crisi perché mancano i ponteggi. Sappiate che però anche l'agroalimentare è fortemente in crisi perché noi ad esempio importiamo il grano tenero e dove lo andiamo ad acquistare? Attenzione, il 64% del grano tenero viene importato. E dove lo andiamo ad acquistare? Il 30% viene acquistato in Ungheria, che è proprio attaccata all'Ucraina e quindi interessatissima al conflitto. Pensate che lo scorso 5 marzo l'Ucraina ha bloccato le esportazioni, perché insomma questi paesi devono pensare anche al proprio fabbisogno interno. Così ha fatto anche l'India di recente, ha bloccato le esportazioni. E come vi dicevo, molto di questo materiale, sia per quanto riguarda le aziende come ad esempio la Zorzi che ci ospita o il comparto agroalimentare, è bloccato nei porti, nel porto di Odessa o appunto dicevamo anche in Cina. Ci sono attese di 4-12 mesi per avere il materiale. Voi che siete in questo settore, com'è la situazione, Presidente? Allora, diciamo che durante il lockdown avevamo delle difficoltà a recuperare i materiali e avevamo una media di 4-5 mesi per avere per esempio i pannelli fotovoltaici, per avere le apparecchiature per fare appunto gli impianti. Da adesso siamo passati a 9-8-9 mesi di attesa. Cioè, fatto gli ordini, ci danno già come date di consegna dopo 8-9 mesi. Quindi anche noi siamo in difficoltà perché se non reperiamo il materiale non riusciamo a farlo. Allora, voi però, Presidente, lo acquistate da dei grossisti che a loro volta dove lo acquistano? Comunque le apparecchiature sono tutte cinesi, impianti fotovoltaici sono fatti tutti da loro. Quindi dico bene che è tutto bloccato nei porti piuttosto che a casa. È tutto bloccato, certo. Purtroppo ancora qui nella pandemia. Poi c'è anche la difficoltà di recuperare, noi abbiamo i pezzi per montare i pannelli fotovoltaici che sono le staffe, sono i supporti che sono fatti in alluminio. Le aziende qui non hanno più materiale, prima materiale per poter costruirli. Abbiamo la Fisher che è da novembre che non rifornisce i grossisti. Le eurosistemi che anche loro non hanno materia prima e non possono consegnare gli ordini. Hanno tantissimi ordini, ma neanche uno è vaso perché non c'è la materia prima. Allora, vi dico anche, Presidente, dico anche un dato. Pensate che appunto nei vari silos dove sono stipate appunto le materie prime di cui vi parlavo si calcono appunto 2 milioni di tonnellate stoccate di cereali, grano, orzo, mais e oltre 700 mila tonnellate sono ferme nei cargo appunto al porto di Odessa, bloccate. Pensate da cosa? Dal mare che è completamente minato. Quindi queste navi non possono salpare perché sennò potrebbero rischiare di saltare per aria. Però tutti questi blocchi, queste problematiche, stanno facendo lievitare anche il prezzo. Naturalmente non possiamo non dirlo di queste materie prime. Ad esempio la situazione appunto di incertezza, parlano alcuni dati, incide sul prezzo finale che ha raggiunto cifre record 400 euro la tonnellata appunto per questi cereali con rincari pari al 31,4%. Noi importiamo addirittura il 47% e il 73% di mais e di soia per foraggiare i nostri animali. Bene, sappiate che hanno raggiunto punte di rincaro pari al 41% per quanto riguarda il mais e la soia anche del 9,1%. Costano 510-515 euro la tonnellata a questi prodotti. Per quanto vi riguarda avete subito dei rincari visto la scarsità appunto di reperibilità. Ma non è solo un problema di aumenti sulla materia del fotovoltaico, è su tutta la gamma degli impianti. Cioè noi eravamo abituati, pre-pandemia, che avevamo a gennaio-febbraio gli aumenti dei listini di qualunque materiale elettrico. Siamo a maggio e abbiamo già avuto tre aumenti. Non uno come ci aspettavamo. Di quanto me lo puoi dire per favore? Un totale di 20% in più. Prima era un 7-8% a gennaio-febbraio. Noi adesso abbiamo un 20% in più finora con i tre aumenti che sono stati fatti. Presidente, le posso chiedere come ovviate appunto per quanto riguarda la clientela, quindi c'è da attendere, come ovviate e per quanto vi riguarda come impresa, come azienda per reperire appunto il materiale che scherseggia? Cioè vi siete rivolti a un altro mercato o tramite altri grossisti? Allora, si fa la ricerca attraverso altri mercati, ma non sempre riusciamo a reperire il materiale per quanto riguarda il fotovoltaico, che è quello più problematico da reperire. Per quanto riguarda il resto del materiale elettrico, c'è il materiale, ci sono gli aumenti, cosa facciamo noi? Quando ci comunicano che ci sarà un aumento, acquistiamo prima quello che ci serve. Quindi fate magazzino, si dice, noi siamo proprio nel vostro magazzino. Noi facciamo magazzino che però appunto ci aiuta a non avere la disparità tra i costi e i ricavi, perché ovviamente quando tu hai cominciato, firmato un contratto, non puoi aumentarlo al cliente, devi dare un'evidenza. Quindi noi per accontentare e stare al passo con quello che abbiamo procurato al cliente come prezzo, acquistiamo prima, nella speranza che il cliente ci paghi in tempi giusti. Presidente, se lei dovesse così scherzosamente tra noi stilare una classifica del prodotto, della componente più difficoltosa da trovare nel suo settore, qual è il vertice? Beh, tutto quello che ha a che fare il comparto fotovoltaico in questo momento. No, un qualcosa che sia, che ne so, lei mi parlava delle staffe piuttosto che... Ma allora, in questo preciso momento... Ma quello che proprio lei non trova. Sono tutto quello che ha a che fare con l'alluminio, le staffe e i supporti. L'alluminio, come dicevamo appunto, per i ponteggi. Non c'è niente. Quindi noi abbiamo adesso tutto il materiale che a novembre abbiamo fatto un ordine, ce lo dovevano consegnare a marzo, ce l'hanno posticipato e ce l'hanno consegnato ai primi di maggio. Ovviamente prima non c'era questo problema dell'alluminio, siamo andati per acquistare l'alluminio, le staffe e i supporti e, bella sorpresa, non ce ne sono. Quindi siamo alla ricerca disperata anche pagandoli di più, perché noi comunque il grosso sono i pannelli e gli inverter come costi e quindi dobbiamo per forza montarli, perché se non montiamo il cliente... Ma questo poi lo paga il cliente finale come rincaro? Cioè io anche questo... Cioè voi avete cent'anni, quindi qualcosina dovreste averla capita. Allora, per alcuni clienti in cui abbiamo fatto i preventivi molto tempo fa e che quindi hanno... Vale quel prezzo? No, no, per quelli vecchi che hanno... Loro perché ci hanno aspettato, perché ce l'hanno confermato ma non ci hanno fatto partire il lavoro subito, cerchiamo di aggiornare i prezzi. Noi lavoriamo anche con l'amministrazione pubblica, per esempio, e loro hanno i prezzi che sono pre-pandemia con gli appalti e lì noi abbiamo bloccato i lavori. Cioè non ci stiamo, là siamo al 40% sotto costo, cioè siamo di prezzo. Senta, è vero perché noi giornalisti spesso ci riempiamo la bocca di paroloni, quindi chiediamo la vera testimonianza di chi è del settore. È vero che molte aziende stanno rischiando di finire gambe all'aria? Sì, sì, perché non ci sono più margini di ricavi e quindi non si può più andare avanti così. Cioè se non c'è un utile l'azienda o chiude o si ferma e se si ferma comunque è un problema perché poi fa fatica a ripartire. È un grosso problema. Presidente, io la ringrazio per l'ospitalità. Se non ci sono domande dallo studio ringrazio appunto la Zorzi Impianti. A voi.